E' molto piccolo, mi ricordo che eri abbastanza piccolo come ragazzino, ma Cioè ragazzi potete abbassare, se non è ciccio potete spegnere il suo ventilatore Poi se fa fuori Non devo calmarmi No, mi devo calmarmi Non devo far uscire Il mezzinese che è in me Non spegnere il tuo ventilatore No, non esiste Mi dispiace Non esiste Spegni il ventilatore, no Ti appena chiesto di spegnere il ventilatore, si, non è la prima volta, ma neanche la decima Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie a tutti. 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 Victor, se puoi farmi questo favore qua, non ridearmi perché sono nuovo, sono un pargolo di Twitch. Mi piace chiamarmi così. Farmi rideare da qualcuno dalla tua altezza, lo vedo un po' come un cheat, mentre invece vorrei riuscire da solo a compiere le mie imprese virtuali. E soprattutto non essere aiutato... Ciao Marco, ti andrebbe di cantare la sigla di Nereact con il tuo nome Giovanni Vajica. Giovanni Vajica, grazie a Eros per l'abbonamento. Che buonissimo odore. Non lo ha scritto Victor, non so se hai visto. La cosa della grassa vita? Cosa mi dicevi prima? Che quel sudicio tira i das, ma poi non lo puoi bannare? Eh no, perché vince lui se lo banno, ma tipo tantissimo.